Il Lecce conclude il suo ritiro con zero gol subiti e una vittoria contro il Vicenza battuto grazie ad un gol di coda ad inizio ripresa. Baroni si affida al bomber campano mentre sulla fascia c'è la sorpresa di Vera. In avvio i giallorossi sono subito pericolosi con un tentativo di Anderson che impegna il portiere Veneto. Alla mezz'ora invece ci prova Paganini sempre dall'auto di destra con un bel destro da posizione defilata ma non trova lo spazio giusto per battere l'estremo difensore. Olivieri sul finire dei primi 45 minuti è anticipato da Grandi che trova il tempo giusto per evitare il tocco decisivo all'ex centroavanti dell'Empoli. La prima frazione di gioco si conclude sullo 0-0. Nella ripresa i Veneti si fanno in avanti ma Gabel dopo 45 minuti di inoperosità è attento in uscita. Al 55esimo poi l'episodio che cambia la partita. Pasticcio in difesa da parte del Vicenza. Codan approfitta, si presenta davanti a Grandi e lo fredda con un destro che si perde all'angolino. 1-0 per il Lecce. Cinque minuti dopo inizia la girandola dei cambi. In campo anche il capitano mancoso. Nel finale si fa vedere anche Zanmayer che dalla distanza sfiora l'incrocio dei pali. Finisce 1-0. Il Lecce torna nel Salento in condizione e con una buona dose di fiducia.